in come gli anni voglio un articolo in prima pagina in cui si è specificato che sono stato io a fare questa scoperta E cosa rappresentate? Un rito religioso che si celebrava in questo paese fino alla fine dell'Ottocento. Una specie di bacio delle croci. Ed sono giovani e belli. E si dice che di notte con il corpo e il tuo spirito si diano al Signor delle Tenebre. Aspetta, senza dare più segni di intendere volerlo. Semblerai, semblerai su una confessione di non riesco più a sopportare il peso che grava sull'anima mia. Accusati di orge e di stregoneria diabolica. Accusati di orge, semblerai sull'anima mia. Accusati di orge, semblerai sull'anima mia.